Benvenuti su MyFootballGersey. Vi mostro oggi la prima maglia dell'Itiat in versione fan, la nuova maglia di Benzema. Grazie per la visione! La maglia non è niente male, poi di un grandissimo campione che va a concludere la sua carriera. Il costo lo vedete qui sopra, niente male soprattutto perché include anche le spese di spedizione e tra l'altro la consegna è velocissima. Qua sotto in descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Andate a vedere perché trovate due cose molto importanti. Primo, un codice per ottenere un coupon immediato di 5 dollari. Secondo, un codice coupon per ottenere uno sconto del 10% su tutti i vostri acquisti. Ora vi lascio la parte finale. Prima però, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Lo dico sempre, se volete nuove recensioni, questo è l'unico modo che avete. Per oggi è tutto, alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione Fan.